Nuove e recenti approvazioni da parte dei comuni valdenesi alla costituzione del subambito distrettuale ecodiano. Nascerà all'interno del lato Salerno per una gestione ottimale dei rifiuti a livello territoriale e vede coinvolti 15 enti. Di recente hanno deliberato Atena Lucana, Casalbuono, Pertosa e Teggiano. I primi ad aderire in piena estate furono Polla, Monte San Giacomo e Sant'Arsenio, subito dopo la riunione di luglio tenutasi a Salerno presso la sede della provincia, tra i sindaci del Vallo di Diano, quasi tutti presenti e che ribadirono in quell'occasione la volontà di costituirsi in SAD, e il presidente dell'Ende d'Ambito Giovanni Coscia, un incontro organizzato dal consigliere provinciale Giovanni Guzzo. La costituzione di un subambito distrettuale rappresenta per i sindaci che convintamente vi stanno aderendo una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti in un'ottica di ottimizzazione del ciclo e in vista della realizzazione nell'ambito del comprensorio di un impianto di compostaggio dimensionato per le esigenze locali. È demandato poi alla comunità montana Vallo di Diano di procedere alla costituzione del nuovo organismo. Vale la pena ricordare che il territorio regionale è ripartito in sette ambiti territoriali ottimali, tra cui quello di Salerno, all'interno del quale, oltre all'Ecodiano, sta nascendo un altro SAD, il Piana del Sele Porta del Cilento. Lo scorso agosto 14 comuni hanno sottoscritto un'intesa che va nella stessa direzione della decisione assunta dagli enti valdianesi.